You think you know me? Buongiorno buonasera ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi video sulle migliori event up dell'inverno pre natalizie perché questo video? Siamo ancora in autunno Dario ti stai drogando? Siamo ancora in autunno fino al 23 dicembre ma perché questa cosa così estemporanea? Tecnicamente sì ma vabbè avete capito già chi c'è con me ok ormai avete dubbi su chi c'è con me però vabbè sono un po' allibito perché io mi farei vedere fuori dalla mia finestra i centimetri di neve però va bene vorrei dare nevita poi Vabbè decressioni meteorologistiche Video sulle line up parleremo di tre classificate line up ma come l'abbiamo impostato questa volta non tanto sulle line up vere e proprie perché con tutti questi personaggi che ci sono adesso diciamo che siano più che altro dei personaggi cardini molto strong dove poi ovviamente può ruotare intorno tutto quanto E al terzo posto i più weak però anche più cheap anche se parli di cheap con il recino lo so quanto sia vero sono proprio le due signorine che vedete alla sinistra ovvero Jun e Saori Jun e Saori hanno tante coppie adesso ne vedremo qualcuna però sono due personaggi veramente solidi Jun c'è dall'inizio del gioco l'RC l'ha aiutato tanto però è veramente rimasta sempre lì il pallino di Dario l'amore di Dario è la più strong di tutte Con la skin sbagliata Ahia cambio basta ho deciso vado a cambiargli non ce la faccio più a sentirmi bullizzato in questo modo alla fine del video cambierò la skin Insomma Jun è un personaggio che è un evergreen è l'unico A che si gioca veramente tanto parte giganto da qualche pazzo No beh l'altro è IC però non si gioca quanto IC non si gioca quanto lei Lei sicuramente è il cardine di questa comp aiutata moltissimo dal RC che ha avuto Saori molto forte come RC Saori personaggio spettacolare In realtà Jun ha sempre stata con l'healer se c'era un healer forte nel meta lei è sempre stata lì di fianco perché di sospettare i danni aiuta tantissimo l'healer Infatti questa classifica potrebbe potrebbe essere spostata se solo ci fosse l'RC di questo signorino Perché questo signorino potrebbe diventare Gesù Cristo Io spero che non gli alzino l'healing Io spero che gli alzino tutto Cioè io tipo voglio vedere il suo RC con un pezzo che mi deve dire a parte i due pezzi di speed come Saori Un pezzo mi deve dire 500 più critical level un altro pezzo 10% healing e l'altro pezzo mi deve dire 10% HP Oh Hypnos cazzo è un dio Comunque lei è passata da aver vicino Marin ad aver vicino Saori con in mezzo Hypnos, Ophiucco, Pandora Pandora e tutti i healer del gioco Insomma i cardini sono loro due Intorno a loro due potete far girare tante comp La più cheap, lasciando a tenesclamation che come giustamente ha fatto presente Pala A giusto non l'avete vista quella parte Ci può andare benissimo Thanatos, io direi anche un qualsiasi portatore di Ares Anche se qui lo potete usare anche su Camus RC l'Ares, non è che è una bestemmia Però io vi consiglio con Jun Saori di portare sempre l'Ares Perché è una mano in più, è un controllo in più Davvero valio la comp L'altro personaggio sono fondamentalmente un controllo Dove nel Frizz Team abbiamo DC Yoga Un DPS che può essere la tenesclamation, Thanatos, pesci banalmente Un qualsiasi DPS E poi gli altri core team, gli altri pezzi del core del team Ovvero in questo caso Camus RC e Camus DC Il Frizz ha preso abbastanza bene dopo l'uscita di Camus DC Lo vedo spesso in Galactic ed è veramente un palo in quel posto Se avete un count più piccolo rispetto al vostro avversario Tipo io non lo sto giocando perché sono stronzo Giocando poco becco spesso gente più piccola O in live becco gente più piccola Mi aprono letteralmente quella parte del corpo Perché effettivamente fa male Camus DC Poi abbiamo visto dei geloni con la count di Gray Ma anche quello di Pala che ha fatto vedere delle partite Che insomma, era brevidisco letteralmente all'idea Comunque la soluzione si chiama Chimera per autoralentarsi al DT2 Ma sono cose da brutte persone Esatto Io mi dissocio da questa affermazione Allora, questo team chiaramente ha dei punti deboli Ovvero un controllo veloce che controlla subito Jun Che vi consiglio di portare veloce e riempita di status res Che comunque sarà il primo target di questa comp Visto che Saori è un healer ingiusto avendo anche l'immunity Quindi Domanda, secondo te anti-stick potrebbe andare? Se l'avete con le speed? Sì Non mi ricordo cosa c'è Forse ho messo quelli Io ci metto quelli che c'hanno Allora, poi questa comp chiaramente è neutralizzata da roba che neutralizza l'ealing Ovvero una comp che fa tanto danno con un orfeo Con la passiva alta Con tanto spiccato nel mezzo Una Atena che magari se vede qualcuno in soglia inizia a portarselo via O anche Minos che può prendere il controllo di uno qualsiasi pezzi fondamentali Saori la fa smettere di curare istantaneamente Quindi comunque non è un team onnipotente Anzi tutt'altro è un team che contro un mono DPS Li rende abbastanza spenti quasi completamente Infatti quali sono i ban che tu consiglieresti a chi vuole portare un'aggiunza a Ori in generale proprio? Allora, Morfeo, Tanato secondo me Io aggiungerei Toro e Artemide infatti sto per dire Io aggiungerei Toro e Artemide Perché quelli sono i pezzi brutti Anche Toro e Orfeo toglie l'anima Le fa subito prendere una botta enorme da Orfeo È molto forte qui Orfeo è un generale, è un grasso nemico di questa comp Per il resto ci si può ficcare qualunque cosa dentro Questa io porto la mia preferita chiaramente Ora la facciamo vedere Aspetta spoilerarla perché poi c'è anche la mia Intanto vi faccio vedere la seconda che gira proprio benissimo con questi personaggi Certo a Dario verrà il vomito a vedere Jun accompagnata da questi tizi Però insomma Jun con i bleed team ovvero Doko e The Nextclamation e Shura gira benissimo Il controllo Eh sì infatti il controllo io personalmente uso Minos Mi trovo molto bene con Minos Però potete Doppio controllo Minos prende qualcuno Shura fallare su qualcun altro E andate lisci Potete portare comunque anche dei C-Yoga Secondo me però per molti è più forte Garuda perché toglie l'Ares Diciamo è molto più comodo Garuda Offre più cose Però per account è difficile farlo in alcuni account Garuda Perché a parte ha bisogno delle skill Ha bisogno pure di avere delle speed che possano incrociarsi E non è proprio avanti Il punto è che Garuda Una dei counter di questa build è proprio l'Ares su Jun E con Garuda ti togli l'Ares Assolutamente Oppure un'idea malsana Che non vi consiglio in realtà io personalmente Però una volta me l'hanno cercata contro e mi hanno fatto malissimo È di C-Shun C-Shun con Jun Sì perché paradossalmente anche lui come di C-Kamus E credo che sia venuto in mente grazie a quello In camera i danni Spara non fa troppo danno Però è fastidioso E poi leva i debuff E lo usano più che altro anche per togliere i debuff Quindi leva il bleed Non è stata una brutta idea del mio avversario Poi andiamo a vedere Araia 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 Grandissime La mia che è la più infima stronza Non mettete tanto Se è una brutta idea Dovete giocare quasi obbligatoriamente Con questi signorini per aumentare ancora le cure Anche se non schillati Giusto mettere i muri Mu è un personaggio che qui dentro regna veramente bene Dovete attaccarlo a Luna Per evitare che vi possano sminchiare i doppi turni Però rende E poi c'è anche quella che ha reso Pala famoso E odiato da tutti i francesi Ovvero la debuffer Che avete visto in tutte le live E vi abbiamo portato anche qui sul canale Insomma Solidissima questa comp Sì Oltre a funzionare come debuffer In realtà Le exclamation istantanee Un team senza June Li porta via pezzi a caso Quando volete voi Immediate È molto carino Veramente molto carino Andiamo alla seconda posizione Allora il team Ha spostato Pala Dal team Contro June Di cui facevo parte Ah al favore di June Al mio team Del pro June Vero Ma è troppo divertente Gli altri due personaggi Quindi i due personaggi in realtà Che Prendono il secondo posto Purtroppo ancora per me Perché io la odio Sono Artemide E l'altro è Alone Perché? Perché ovviamente con Artemide Alone va molto d'accordo Se ne sono molti doppi turni E paradossalmente a parte Saori Questo infatti è uno dei team Più forti che gira con Alone Ovvero il bleed team Ovviamente dovete togliere minosse Per metterci Shuretto Oh no senza Shura Perché in realtà va comunque con i base E io ci giocherei sempre lui Che è il re incontrastato di tutte le comp Comunque Toro togli un'anima Anche sotto June Tutti quei base La sderenano Proprio bene Swash si è portata più veloce degli altri Qui ci sta bene anche il MewRC Facendo il doppio base Accumula velocemente le feri Eh è abbastanza versatile Togliendo poco Essendo che qui comunque di Energy Non ve ne fate troppo Perché al primo turno Potete skillare Colour Ma potete anche semplicemente Fare le switch di anime Potete usare veramente Qualsiasi DPS volete Potete metterci pesci Potete metterla davanti Potete mettermi Milo Potete mettere Camus La pala ha portato la comp Che pure a sentire i miei sub È una delle più stabili Che stanno girando al momento No Alon mi serviva in realtà Chiedo scusa Sono Malon Perché è una comp Che anche Jamir Sta dimostrando di girare Molto molto bene Eh non è per cuori deboli Diciamo Allora sì Infatti a me non piace Cioè nel senso Dovete stare concentrati Giocare È una rottura Che io non voglio peggiarmi Però è molto forte E a sentire appunto Anche alcuni sub È anche molto stabile Al posto delle exclamation In realtà Meglio Toro Sì Mi ho tolto Che sbaglio Toro O Sion Insomma Una delle due Vabbè il gioco Stai mettendo PG a caso Ma perché Io quando giro Non so perché Mi mette PG Non ho ancora capito Io stavo girando i PG Ma ho messo dentro Il PG del team Legge il pixel Che lo porta in su E te lo butta diretto Ah quando io alzo il mouse Per girare Non mi piace Di postare Cioè potete giocare così Oppure mettere il Toro Al posto di Sion Insomma I due core Di questa line up Sono sicuramente Artemide E Alon Alon Insieme a Scion Surface Sono i due personaggi Che a me stanno Mi stanno facendo dire Il Galactic Che è dominato da loro Ovviamente Perché dico questo Perché in realtà La prima line up Io personalmente Non la vedrò mai giocare Pala spesso Perché ha le triple Maledetto In realtà dovrei stare zitto Ma questi sono dettagli Perché l'ho trovata Anch'io una Ovvero la Pandora Che in questo caso Non ha Pandora Perché l'abbiamo stata Nello showcase di Mew Di Mew Proprio perché appunto Io non la gioco mai Perché mai ci riesco E io personalmente La porto così Ora Pala Qual è la vera Pandora Sgravata Pazza sgravata Che Non si riesce a battere Allora Dipende Allora Questa la portate Chiaramente Se bannate Artemide Perché altrimenti L'energy Possono essere un problema Special contro Un Artemide Veloce Si risolve Mettendo un doco Lì dentro Un dc doco Al posto Di Exclamation Che qui Non uso Attenzione Se fate Se usate team Con Pandora Non mettete sui fisici Il Daffodil Special su Scion Surprice Non lo mettete Perché se vi arriva Un aumento di costo Per la Pandora Avversaria Non potete più Fare il muro Perché vi posterà Due energy Andando Allora Questa È fattibile Al posti toro Si può mettere Camus Dc Si può mettere Pesci Si possono mettere Tutte e due Senza mettere Doco Ci si può mettere Tantos Che ci sta abbastanza bene Se riesce a sopravvivere Ci sono tante varianti La chiave è Orfeo Perché permette Di seccare il pet Appena agisce E quindi Di abusare Di questa meccanica Perversa e sbagliata Infatti I core della comp Sono proprio C Pandora E Orfeo Però come hai detto tu Orfeo È un counter Di molte line up Quindi È raro Che lo lasciano giocare Secondo te Pandora Può girare così Senza Orfeo Allora In realtà Comunque Pandora Al posto di Orfeo Può usare Toro Nella misura in cui Se il pet colpisce qualcosa Al 70% Di prendersi Un attacco di toro Sempre che L'Atena Avversaria Se l'ha messa Non si ha mangiato Tutti i contrattacchi Quindi Funzioni Così State attenti Alle speed State attenti A tutto A dove mettete i veli Comunque È un personaggio Complicato Spesso in un mirror Però È divertente Ed è Estremamente OP Veramente Estremamente OP No per Una piccola menzione Speciale per un'altra Comp Appena abbiamo finito Con questa No questa abbiamo finito Perché tanto di Pandora Cioè sinceramente Raga Io la banno perenne Quindi non vi saprei Dire altro È la più forte del gioco Per quanto mi riguarda Non la gioco solo Perché è una guerra di speed E io faccio schifo Speed Quindi tutto qua Però è fortissimo Quale menzione vuole fare Prima della mia chiusura Perché Si usa tanto Alone In un altro team Quella con Athena E Dici Sirio Perché comunque Sono due personaggi Che fanno il doppio turno L'ho usato anche io Effettivamente Devo dire che mi ha colpito Nel senso che Riesce a funzionare Io l'avevo portato Giusto per provare Sirio Quando è arrivata La notizia dell'RC Perché tipo Abbiamo fatto quel video Con Mew Dove l'avevo provato Con o senza RC E una differenza sostanziale Si sentiva Io spero che sia così Pure per questo personaggio Ma ci credo poco Ovviamente Il mio problema È che mio Sirio È paralitico In questo momento Quindi soffre un pochetto E infatti L'avevo provata Con ultimo personaggio Se non ricordo male Milo Ma non ne sono certo Comunque Chiaramente Questo team Va portato Sirio È più veloce Di Alone Perché facendo le doppiazioni Il fa risvegliare T1 È una cosa molto forte A sinistra Chi ci porteresti però? Ma qualcuno ci porta Thanatos Saori Anche volendo Sion Surplus Che con la protezione Si possono proteggere la vicenda E fare gli amicici Ci sono diverse opzioni Interessanti Attenzione Se l'avversario porta Exclamation Se ci fa il base Con Leo Con la skin Almeno a 4 Gli impedisce Di skillare Quindi da questo Si può ovviare Con Artemide In Hunter O velandolo Quindi state attenti A questa cosa È una roba Effettivamente Se non fosse per il problema Che Atene SS Fa le doppiazioni Sarebbe quasi meglio Artemide In Hunter Ah Piccola menzione speciale Si usa anche un altro personaggio Per risvegliare prima Al più di uno Allora Alone Si risveglia con qualunque azione Sul vostro team Quindi A parte Qualcuno Qualche coraggioso Che lo porta Con Isaac Perché i 4 tentacolini Contano con azione Si risveglia In istante Ma lo stesso con Giganto Sì Con Giganto Mi sembra Le fa due Poseidone Poseidone Il pet di Poseidone Volevo dire appunto quello T1 Se invece non ci sono le Angie Spesso si fa il pet E si controlla da T2 Funziona anche Se il toro avversario Vi strappa l'anima Qualcuno più veloce di lui L'azione dell'anima Velocizzerà il vostro Alone Quindi occhio Questo non lo sapevo Nel caso opposto Su chi lo sparate Se lo volete proprio fare T1 Insomma Non ci sono di modi Per svegliare Il dio degli inferi Siamo arrivati Alla conclusione Di questo video E ovviamente Io vi porterò La comp Che è in live Quindi ci sono Le prove video Ti mostrò Di avere Un rate più alto Del gioco Ovviamente Dove regna Sovrano Il culo E il caso Quindi Zanzi Questo è sempre Dedicato a te La mia Itchipop Devastante Dove Itchipop Non è manco veloce Vi dico la verità Ve lo faccio vedere Perché so che non ci crederà Quasi nessuno Questa Ci sto provando Ma deve recuperare Poverino C'ha 9.39 Più lento di alcuni Di TNSS Per capirvi C'ha di fianco 9.46 TNSS Lui 9.39 C'ha la roba Mono speed Buttata proprio Becera E' sto schifo Beh è becero Ma perché Perché vi dovete divertire A farvi guidare da lui Cioè ragazzi Vi ho alzato anche Lo status sit adesso Per colpa di Grey Che mi ha traviato Ma è imbarazzato Provatela E vedete L'unica rogna Vi serve exclamation Perché Il Glit Team Gira con lui È molto amico Infatti Non è tanto tantos Qua che io vi consiglio La comp perfetta è questa Lo svegliete T1 E Alon ha tutto il tempo Di fare quello che gli è Pare perché L'allena app avversario Avranno agito due persone Tre se siete sfigati Ma quando arriverà Il secondo turno E confonderete Il DPS Dell'avversario Io vi consiglio Di provare a confondere Toro Succede una cosa Bellissima Ma soprattutto Se avete legato Due PG Potete provare A confonderne due Al prezzo di uno Giusto E che è quello Per cui si gioca l'on Cioè nel senso Qual è il mio trick Supremo A primo turno Swappo Due personaggi C'è l'ego Due personaggi Il secondo turno Pop Spara E niente Confusi Tutte e due Muore il team Per curiosità Ma Se io leggo due personaggi Con Alon E poi sollevo Quello più veloce Con Garuda Cado giù E si solleva L'altro No forse Si sollevano Tutte e due Insieme Sai Non dovrebbe Tenerne due Ah è vero Non può È vero Non può Forse per quello C'è un Da provare Non penso sia Uno status Trasferibile Però Da provare Comunque funziona Molto bene Anche per i bleed Con legame Di Alon Perché Tra le cose Quando Doco Spara Li sparge E fa esplodere Tutti e due È devastante Io Ve la consiglio Ovviamente Raga Dovete giocare Per divertirvi Se portate Sta roba Ve lo dico Perché In live Siamo morti Da ridere Però Una partita Io l'ho persa Perché il pop Su tre confusion Negli ultimi turni L'aveva confuso Per sette turni Di fila Quindi ci stava Benissimo Non ha confuso Alon Che stava morendo Di confusioni Generalmente Cioè È bellissimo Da giocare Però Dovete mettere in conto Che può capitare Per perdere Dipende tutto dal caso Sì Per cazzeggiare Però Per farete giornaliere È spettacolare Vi arrivano a bannarlo Ve lo dico Se volete giocare a Pandora È un ottimo trick Io vi ringrazio Per aver visto questo video Ci vediamo come sempre In live questa sera Per la Jamir Oggi Che sa che è martedì Che si fanno I 32esimi 16esimi Sì Dovrebbero essere 16esimi Io vi ringrazio ancora E Buona serata ragazzi Ciao ciao A stasera Ciao Ciao Grazie a tutti.